Ha il diritto di vivere in libertà e in condizioni di sicurezza. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. Nessuno ha il diritto di trattarti da schiavo e tu non devi rendere nessuno tuo schiavo. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o trattamento o punizioni cruele, inumani o degradanti. Nessuno ha il diritto di farti di male o di torturarti. Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, a riconoscimento della sua personalità giuridica. Ha il diritto di essere protetto dalla legge, come tutti gli altri, nello stesso modo in ogni parte del mondo. Articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi a legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una uguale tutela da parte della legge. La legge è uguale per tutti e deve essere applicata per tutti nello stesso modo. Uguale per tutti. Articolo 8. Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contratti che violano i diritti fondamentali e lui riconosciuti della Costituzione alla legge. Quando i diritti garantiti dal tuo Stato non sono rispettati, devi avere la possibilità di essere aiutato dalla legge. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Nessuno ha il diritto di arrestarti o di tenerti in prigione o di mandarti via al tuo Paese ingiustamente o senza un buon motivo.